Siamo in volo, siamo io e io e io, io e io, io e te, scusate è libero questo posto, guardi, è libero, è il suo posto, io ho l'otto D, voi che posti avete? E, F, me li fate vedere, mi fa piacere, io sono un passeggero abituale, posso offrirvi qualcosa dal menù, camminiere, chimica, ristorante, voi cosa fate nella vita? Cosa le interessa, diciamo, non rompiamo i coglioni al prossimo, ma uno può anche riposare, io potrei riposare un po' io, le ringrazio, le ringrazio, le dà fastidio? No, rompiamo i coglioni, se le dà fastidio evito la mano, eviti proprio, eviti proprio, ma proprio di viaggiare con questo è, ma mi ritenete invadente? E allora cambio poi, camminiere, direttore, non credo sia un camminiere